La domenica calcistica della nostra redazione Serie C e Serie B di i piatti forti della giornata, ma non teniamo d'occhio sempre la giornata di Serie B con il Pescara che ieri ha pareggiato a Brescia per 1-1, ma soprattutto perché è in campo il Cosenza a Venezia e questa è una partita fondamentale per il prosieguo del cammino della formazione biancazzurra di Gianluca Grassadonia che ieri ha avuto un malore, lo sapete tutti, però adesso sta bene, ma squadra che sarà impegnata in scontri diretti decisivi per la salvezza nelle prossime settimane. Ovviamente teniamo d'occhio la gara di Venezia che è ancora sullo 0-0 e ovviamente l'apertura è dedicata alla Serie C con la sconfitta del Teramo a Cava dei Tirreni 1-0 contro il Fanalino di Coda Cavese in Serie D invece due vittorie, quelle del Notaresco a Castelfidardo e del Pineto in casa con l'atletico Porto Sant'Elpidio e due sconfitte, quelle del Castelnuovo a Campobasso contro la prima della classe e quella del Giulianova di misura al Magno Scopigno di Rieti per 1-0. Prima parte come di consueto legata alla Lega Pro e allora diamo il ben ritrovati ad Andrea Costantini in redazione Ciao Andrea Ciao a tutti E alla nostra Ania Cantagalli in collegamento, ciao Ania Ciao 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 Ovviamente ringrazio già da adesso tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti qualora vogliate intervenire nella nostra trasmissione potete farlo al 392-6237-060 Whatsapp o SMS, scegliete voi Vediamo i numeri, partendo dai risultati di Serie B però per controllare la partita di Venezia che Andrea sta seguendo anche live sempre 0-0, gara iniziata alle 19 e quindi dovremmo essere intorno alla mezz'ora ancora a Reti Inviolate giornata la numero 33 che si concluderà domani nel tardo pomeriggio quando ci sarà la sfida del Bente Godi tra Chievo, Verona e Pisa vediamo rapidamente come questo pareggio influisce sulla classifica influirebbe qualora fosse definitivo sulla classifica con il Cosenza che salirebbe a 33 punti più 5 sul Pescara ma chiaramente lo ricordiamo siamo ancora nelle fasi iniziali della partita Serie C, Girone C, come detto i risultati, la sconfitta inopinata del Teramo 1-0 sul campo della Cavese questi risultati, Palermo Vibonese 0-0, Avellino Bari 1-0 oggi ad ora di pranzo, Cadese Teramo 1-0, Catania Potenza 5-2 Monopoli Paganese 3-1, Turris Ternana 0-1 Bisceglie Virtus Francavilla che si sta giocando, non so se è conclusa comunque dovrebbe mancare davvero pochissimo 1-0 per la formazione nero-azzurra che dovrebbe essere il prossimo avversario del Teramo domenica prossima alle 17.30 al Bonolis alle 21 di domani c'è Viterbese Casertana e poi invece il 21 aprile si recupererà Juve Stabbia-Cadanzaro alle ore 15 nella giornata in cui riposa il Foggia vediamo la classifica con la Ternana che lo sapete tutti ha vinto il campionato con 87 punti insomma un punteggio stratosferico per la formazione di Lucarelli che se torna in Serie B 66 punti Avellino 59 per il Bari 58 per il Catanzaro 55 per il Catania 52 per la Juve Stabbia 47 per il Foggia 45 punti per il Teramo 43 punti per il Palermo 41 la Casertana e qui si conclude la griglia playoff 40 punti per il Monopoli 37 per la Virtus Francavilla 36 per la Viterbese 35 per Turris e Potenza 32 per la Vibonese 27 per Biceglie e Paganese 19 punti per la Cavese vediamo rapidamente anche i risultati e classifiche del Girone F di Serie D Aprilia, Vasto Girardi Montegiorgio Vastese Agnonese e Tolentino gare rinviate ma vi do una notizia in settimana ci sarà il turno infrasettimanale la Vastese tornerà a giocare in casa contro il Matese dunque dovrebbe manca solo l'ufficialità tornare in campo la formazione aragonese i risultati Campobasso Castelnuovo 4 a 0 Castelfidardo Notaresco 1 a 2 Chiugire Canatese 1 a 0 Matese Cinzia Albalonga 1 a 0 Pineto Atletico Porto Sattelpidio 2 a 1 peraltro il Pineto che aveva recuperato è vinto a Montegiorgio anche in settimana di misura Rieti Giulianova 1 a 0 vediamo la classifica aspettando ovviamente che il campionato abbia la sua pausa per permettere i tanti recuperi testimoniati visivamente li vedete dai dalla miriade di asterischi che ci sono ancora 53 punti per il Campobasso 48 per il Notaresco 42 per la Cinzia Albalonga 41 per il Castelnuovo 37 per il Matese 35 per il Vasto Gerardi 33 punti per il Castelfidardo 31 per il Tolentino 30 per il Rieti 29 punti per Montegiorgio e Recanatese 27 punti per Vastese e Aprilia 25 punti per il Pineto 23 punti per il Fiuggi 19 per il Giulianova 4 per l'Olimpiagnonese 3 punti per l'Atletico Porto Sant'Elpidio facciamo così iniziamo subito il servizio di Ania Cantagalli Cavese Teramo 1 a 0 il Teramo rimedia un'altra figuraccia lontano dal Bonolis e resuscita la Cavese che vince 1 a 0 interrompendo la striscia di 10 sconfitte consecutive pur rimanendo ultima in classifica e con un piede e mezzo in Serie D Paci vara il 3-5-2 dal primo minuto facendo tornare subito in campo Mungo come mezzala Trasciani in difesa e K come tutta fascia sinistra in avanti confermati invece Bombaggi e Pinzauti anche i Blue Fonse cambiano modulo rispetto al solito ma Yuri abbandona il 3-5-2 e vara il 4-3-3 con Senesi, Bubas e Gatto in avanti accade poco da una parte e dall'altra nel primo quarto d'ora di gioco il Teramo ha un paio di occasioni potenziali con Pinzauti e Mungo ma è Bubas al 17esimo su perfetta imbucata di Lancini a prendere alle spalle di Akite ed a far partire un mancino che Lewandowski riesce a respingere la risposta ideale del Teramo arriva al ventesimo quando K fa partire dalla sinistra un cross che Bombaggi spinge di testa al lato la cabeza è però in palla e direttamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva al ventitresimo il vantaggio dei padroni di casa dopo la deviazione di un compagno Matino è più rapido dei giocatori bianco-rossi in area piccola a toccare la sfera e metterla alle spalle di Lewandowski già negli istanti precedenti Arregoni e compagni avevano avuto qualche difficoltà nel leggere le marcature in area il Teramo accenda poi una blanda reazione Arregoni ci prova da calcio di punizione trovando solo un calcio d'angolo mentre proprio da corner al 34esimo Trasciani e Diakite non trovano da posizione defilata la deviazione vincente per riportare il diavolo in parità la formazione di Pace al 41esimo rischia addirittura anche di incassare il raddoppio da calcio di punizione sull'out di destra Pompetti disegna la traiettoria giusta per sorprendere Lewandowski trovando però il palo a negargli il gol ad inizio ripresa Pace fa retromarcia vedendo un Teramo in difficoltà il tecnico manda in campo Chiere Matenga e Vittorini per Pinzauti e Trasciani e torna così al retroguardia 4 ed al consueto 4-4-2 al sesto la prima occasione pericolosa per i bianco-rossi quando una palla di Bombaggi deviata arriva Mungo che però trova Kucic davanti a sé a respingere la conclusione il diavolo ritrova il modulo conosciuto ed anche la manovra sembra beneficiarne senza però riuscire a costruire qualcosa di importante al quarto d'ora episodio dubbio in area cavese con Chiere Matenga che prova ad insinuarsi tra Kucic e Matino con i giocatori di casa che restano poi a terra la cavese va di nuovo vicino al gol al ventesimo quando Bubas riceve in area ma col destro non riesce ad inquadrare in allungo lo specchio della porta Costa Ferreira fa il suo ingresso in campo a posto di Bombaggi al ventiduesimo e qualche minuto dopo fa partire un tiro a rientrare col destro che sfiora il palo i Blufonset sfiorano ancora la rete alla mezz'ora da un recupero palla Senesi si invola sulla destra e mette in mezzo per Bubas anticipato in maniera provvidenziale davanti la porta da Diachite due minuti dopo è ancora Diachite protagonista ma in fase avanzata Vittorini raccoglie un calcio di punizione calciato male e serve il cross per il centrale difensivo ma di testa il Franco Magliano non trova lo specchio Paci gioca anche le carte di Francesco e Gerbi al posto di Kappa e Mungo la Cavese stanca e il Teramo spinge per cercare perlomeno il pareggio nel finale Chiere Mateng si scontra con Kucic in uscita e rimane a terra dopo qualche secondo di paura però l'attaccante si rialza e torna sul terreno di gioco per dare una mano nel recupero al cinquantesimo Marzupi e Kucic rischiano la frittata con Chiere Mateng pronto ad approfittarne ma la difesa della Cavese si salva in qualche modo il forcing finale tra diverse interruzioni porta la gara a giocare quasi nove minuti di recupero inutilmente per il Diavolo che incappa nel secondo K.O. di fila in trasferta dopo quello contro la Vibonese il Teramo resta ottavo in classifica ma è una sconfitta che potrebbe pesare molto quando la graduatoria sarà ridisegnata con i vari recuperi domenica prossima al Bonolis arriva il Bisceglie altra formazione in difficoltà dei risultati sconfitta e consecutiva arriva un 1-0 pesantissimo Maria Di Lotto firmato è finale a Bisceglie 1-0 per la formazione e pugliese sull'altra pugliese la Virtus Francavilla Aia dicevi nel servizio sconfitta che peserà peserà quanto secondo te da qui alla fine del campionato anche perché adesso lo ricordiamo nelle ultime cinque partite sono quattro sconfitte e un successo contro la Turris potrebbe pesare tanto bisognerà vedere cosa farà il Monopoli anche che ha due gare da recuperare che attualmente è alle spalle del Teramo all'undicesimo posto però appunto ancora due partite da recuperare Foggio e Palermo soprattutto il Palermo che immediatamente alle spalle ha una gara ancora da recuperare se non erro proprio contro il Foggio la Casertana giocherà domani quindi è un po' una situazione in evoluzione in più ha un'altra partita se non erro anche da recuperare che vedo che ne ha 31 ok quindi a maggior ragione è una situazione in evoluzione quindi il Teramo dovrà cercare in queste ultime tre gare di campionato di fare più punti possibile che può sembrare una esternazione abbastanza banale ma insomma è quello che avrebbe dovuto fare il Teramo già da quando è iniziato insomma dopo la vittoria contro il Catania questa fase questo ciclo di gare un po' più abbordabili però esattamente come nel Genoa di andata nulla è cambiato perché anzi forse per certi versi è anche andando andando peggio perché le stesse difficoltà contro queste formazioni che ha incontrato il Teramo nel girone di andata le sta trovando adesso ovvero in un girone alla fine comunque quasi in un campionato la formazione di pace non è riuscita a trovare la via d'uscita al fatto di non saper scardinare le squadre che si sanno chiudere bene dietro quindi è un grande difetto un grandissimo difetto che si può giustificare parzialmente con l'assenza di un di un centravanti vero e proprio che abbia un particolare feeling col gol ma è anche una questione di manovra ovviamente di gestione della manovra di proposizione offensiva a parte questo a parte questione tecnico-tattiche direi che comunque è lo spirito che quest'oggi è mancato quello che c'è stato domenica scorsa dopo magari essere stati pungolati da esternazioni esterne rispetto alla squadra ovvero dal presidente quelle motivazioni si sono oggi un po' sono di nuova evaporate e sostanzialmente il Teramo non è mai riuscito ad essere davvero pericoloso dalle parti di Pucic quindi una prova scialba davvero brutta che non fa ben sperare per le ultime tre gare di campionato io su questo messaggio che giro ad Andrea lo leggevo mentre finiva il concetto fino ad un certo punto fino a quando dice sbaglio poi sono considerazioni ovviamente molto più forti e che non su cui non entriamo però fino a quando dice se un mister dice che la squadra soffre quando le avversarie si chiudono e questo avviene dall'inizio della stagione ed è quello che ho provato a chiederle oggi pomeriggio in conferenza stampa a Paci non dovrebbe essere lui a trovare le soluzioni perché questo non accada Andrea sì in teoria è proprio così però come ho detto l'altra volta quando una squadra arriva alla 33esima 34esima 32esima giornata la squadra è questa cioè ormai quello che si doveva fare lo si è fatto ormai il prodotto è finito ecco perché purtroppo da questo punto di vista ormai non c'è più modo di vedere una ulteriore evoluzione e se la chiave di volta non la si è trovata nel corso di un'intera stagione è difficile che la si trovi quando mancano tre partite alla fine della stagione regolare poi intanto ha segnato il Venezia mi pare contro il Cosenza è un'ottima notizia per il Pescara sì detto questo a me sembra che la partita di oggi abbia ricalcato buona parte delle ultime gare c'è stata una reazione emotiva contro la Turris una gara che comunque si stava per chiudere con un pareggio poi Teramo ha avuto quel sussulto proprio alla fine però oggi abbiamo rivisto una squadra esanime tu oggi hai usato l'espressione una squadra che vivacchia sì sono profondamente convinto è una squadra che vivacchia che sta aspettando la fine del campionato è così ma altrimenti non si spiega perché l'allenatore sia portato a 20 minuti della fine con la squadra sotto a togliere Bombaggi che è uno dei migliori realizzatori della squadra dopo aver tolto anche Pinzauti che è l'unico centravanti che ha il Teramo quindi a me sembra che da un lato ci siano idee confuse e dall'altra c'è una squadra che ormai non ha più grandi stimoli e come hai detto tu vivacchia ne è venuta fuori una prova bruttissima quella di Cava dei Tirreni già la squadra quindi si è presentata senza avere grande mordente ci si aggiunga le scelte dell'allenatore che sono state scelte confusionarie perché cambi modulo per affrontare l'ultima squadra del campionato che viene da una serie impressionante di sconfitte peraltro la vittoria del Bisceglie ha vanificato la vittoria della Cavese perché ora se guardiamo la classifica se mai la Cavese poteva sperare di raggiungere il Bisceglie ora è a meno 8 con 9 punti a disposizione e più la Cavese deve cercare ora di rimontare una parte del gap della Vibonese da 13 punti che sono dovrebbe scendere a 8 quindi dovrebbe recuperare 5 punti su 9 insomma la Cavese è una squadra sostanzialmente retrocessa per andare a giocare a Cavati Tirreni cambi modulo ti metti 3-5-2 quando Paci era molto fissato sul restare con la difesa a 4 avere certi meccanismi da preservare dopo un tempo ritorni al 4-4-2 togliendo però il centro avanti insomma delle scelte che si fa fatica davvero a comprendere e ne è venuta fuori una prova nella quale il Teramo non ha avuto che mezza palla gol e francamente anche anche volendo capire che il Teramo ha delle difficoltà contro squadre di bassa classifica ma anche di rabbia qualcosa tiri fuori il Teramo oggi non ha cavato fuori nulla e questo è un dato che dovrebbe far riflettere ma io penso che le riflessioni debbono essere già fatte come le abbiamo fatte noi da questa parte le deve aver fatte anche la società le deve aver fatte anche Paci perché ripeto il prodotto è finito questa squadra non si può più migliorare perché si sono giocate 33 partite e ormai quello che si doveva fare lo si è fatto assolutamente sì intanto questo messaggio che vediamo non è il primo spettatore da casa tifoso che si augura di non fare addirittura i playoff perché dice ci risparmiamo brutte figure io siccome il playoff lo dico ma perché insomma a scanso di equivoci il playoff è sempre un po' un terno all'otto almeno nei primi turni poi arrivare fino in fondo è durissima e lo sappiamo però non andarci cioè limitarsi a non farli io non sono molto 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 d'accordo perché poi sai arrivi anche fuori casa magari puoi trovare il pomeriggio la serata giusta non è mai detto cioè condannarsi a non farli il tifoso dice a questo punto meglio non farli sarebbe interessante sapere cosa pensano nel loro intimo al di là di quello che direbbero i giocatori del Teramo eh sì intanto vi faccio sentire l'allenatore del Teramo Massimo Pasci conferenza stampa post gara prima ci avevano scritto da casa non sa più a che santo votarsi vediamo e poi traiamo le nostre conclusioni spiegarla è anche semplice noi abbiamo abbiamo approcciato bene la partita nel primo tempo poi probabilmente nella prima occasione eh se non erro nell'occasione del calcio d'agolo abbiamo subito gol un gol che onestamente quando subisci gol in queste partite poi è è difficile perché poi la squadra avversaria si riversa tutta nella propria metà campo per tutta la partita è stato è stato un po' quello il fatto che ci ha penalizzato aver preso quel gol in un'occasione sporadica non l'abbiamo subito perché stavamo subendo l'avversario ma su una palla inattiva e da lì si sono complicate le cose perché questa squadra nella sua storia fa fatica ad incontrare squadre chiuse ma noi come squadra delimitiamo dei limiti quando dobbiamo giocare su questi campi parlo proprio di terreno di gioco che non che non permette un gioco e quando troviamo squadre chiuse completamente chiuse c'è andata male si è stata sfortunata a subire quel gol altrimenti magari saremmo riusciti a fare un'altra partita credo eh anche nelle difficoltà ma quando trovi dieci giocatori davanti all'area di rigore è difficile è difficile provare ad impensierirli noi come squadra quest'anno il Teramo è una continua sofferenza è una continua sofferenza riuscire a vincere riuscire a fare gol è la nostra storia ma non è una giustificazione ma non è neanche una cosa pessima perché siamo sempre riusciti comunque a mantenere equilibrata la classifica a mantenere un certo stile di gioco perché noi non siamo quella squadra che che difende in dieci davanti alla propria porta e butta via i palloni io onestamente preferisco vedere una squadra così che ci prova anche se ha fatica a finalizzare è vero però preferisco vedere una squadra così che ci prova in tutte le maniere anziché vedere una squadra che non vuol giocare che ha come strategia quella di di mettersi là dietro in dieci e non giocare quindi sono contento della nostra squadra non sono contento di questo risultato non sono contento delle sconfitte ma come allenatore io sono io sono il primo a doverle accettare abbiamo perso ma non è stata la stessa sconfitta a vivo Valencia secondo me nel secondo tempo abbiamo un po' mollato non c'è stata una reazione oggi ho visto una grande reazione dal gol subito ho visto comunque una squadra che per tutto il secondo tempo ci ha provato contro una squadra ripeto totalmente chiusa nella propria metà campo e quindi è diverso perché la squadra ha avuto una reazione ha fatto un buon secondo tempo credo che sia una questione di modulo o di uomini il primo tempo abbiamo subito un calcio d'angolo in quel calcio d'angolo abbiamo preso il gol quindi non è non è un discorso tattico non è un discorso che gli avversari ci hanno ci hanno ci hanno fatto girare o non riuscivamo a capire il loro gioco eravamo messi bene in campo quindi è proprio un discorso di aver subito un episodio e in quell'episodio abbiamo subito il gol le scelte sono state dettate dal fatto che dal fatto che l'ultima volta che abbiamo cambiato la difesa a quattro è andata male e quindi cambiare spostare dei giocatori nella difesa a quattro poteva essere pericoloso abbiamo giocato a tre ma detto questo il primo tempo non abbiamo subito niente dal punto di vista offensivo da parte degli avversari quindi dopo il secondo tempo ho ricambiato perché per andare a vincere la partita abbiamo provato a giocare con le quattro punte sono allenatore e devo portare risultati in questa squadra e non mi tiro indietro da questo quindi queste sono valutazioni che devono fare la società io come allenatore devo riuscire a fare il meglio con i ragazzi con la squadra si tratta di competere si tratta di non dire io mi impegno al massimo ma a vincere le partite quindi questo è un discorso che aspetta la società da parte mia rimango molto sereno perché so la difficoltà di questo campionato e so la difficoltà noi come squadra di affrontare questo tipo di partite io credo che questa squadra per adesso sia stata abbia dato veramente tanto in questo campionato nelle difficoltà queste sono le parole di Massimo Paci una sconfitta diversa da quella di Vibo Valencia mi ha detto perché oggi c'è stata comunque una reazione dopo lo svantaggio invece a Vibo Valencia almeno questo ha detto di Paci nel secondo tempo il Teramo effettivamente non ha creato nulla sei d'accordo? Sì è un po' come battere un calcio d'angolo perché ovviamente l'allenatore prova a salvare il salvabile però anche se è un Teramo da volli fortissimamente volli ma poi alla fine di azioni davvero pericolose di occasioni davvero pericolose non ci sono state nel secondo tempo va bene la reazione ma poi sostanzialmente il Teramo è uscito comunque con una sconfitta da Gava dei Terreni che pesa per come è arrivata per l'avversario per il momento dell'avversario insomma per tante considerazioni soprattutto a me ha fatto un po' specie quando Paci ha detto è una sofferenza quest'anno con il Teramo è una continua sofferenza io devo dire però ad integrazione che questo concetto è vero fino a un certo punto perché finché le cose andavano bene non era una continua sofferenza no credo che viva sull'onda emotiva dell'ultimo periodo torris a parte ovviamente che è rimasta per appunto una vittoria a modi episodio almeno allo stato attuale è una continua sofferenza per vincere per fare gol è un po' una continua sofferenza dal Ternana Teramo del novembre scorso quando comunque il Teramo è entrato in quella sorta di tunnel da cui sostanzialmente poi non è mai uscito effettivamente nei risultati poi le prestazioni possono essere più o meno buone possiamo essere più o meno d'accordo con le analisi del tecnico insomma poi il calcio è bello perché ognuno poi la vede come vuole però i risultati parlano chiaro da Ternana Teramo se non sbaglio sono solo 4 vittorie 4-5 vittorie Bari Paganese Catania e Turris esatto quindi 4 vittorie insomma sono un po' poche un bottino un po' miso a fronte di quelle prime 10 gare di campionato in cui il Teramo aveva fatto davvero faville aveva messo in mostra qualcosa che poi non è più tornato per tante cose che abbiamo sempre detto la gestione fuori dal campo la gestione in campo perché sicuramente non pesa soltanto quello che è successo fuori ma anche magari anche qualcosa che è successo tra lo staff tecnico e la squadra giocatori stessi giocatori a scadenza insomma sono tante poi le dinamiche che vanno che vanno a influire e quindi questo sentimento della continua sofferenza rischia di trascinarsi anche per le ultime tre gare di campionato della stagione regolare può essere davvero un ulteriore sofferenza insomma che il Teramo non deve vivere eh sì assolutamente sì o peraltro vi faccio notare una cosa sapete l'anno scorso come finì Caves e Teramo sì sì 1-0 e sapete chi ha segnato chi segnò l'anno scorso un mattino lo stesso mattino solo che non si giocava a Cava dei Tirreni si giocava perché il simuletta Lamberti era indisponibile si giocava a Castella Mare di Stabbia eh non di eh non di piede come oggi ma di testa lo vediamo eh un la porta è sempre quella sulla destra guardando ovviamente rispetto all'inquadratura c'era Tomei in porta e Mattino di testa aveva punito il Teramo con una ehm Cavese che anche l'anno scorso faceva fatica certo niente a che vedere con questa stagione dove di fatto come ha detto anche Andrea e di fatto stiamo parlando di una squadra pre-retrocessa però è curioso il fatto che insomma non è che abbia segnato due gol il centro avanti non l'avremmo neanche tirata fuori come ricorrenza se avesse segnato due gol un centro avanti in due anni di fila no però insomma se segna un centrale difensivo due volte due anni consecutivamente e il Teramo perde contro la Cavese uno a zero insomma oh Andrea questa squadra questa squadra ha fatto 19 punti 4 con il Teramo tranne da terri torni sì sì evidentemente porta porta bene porta bene lo sconto diretto ma poi c'è il resto del campionato che ha detto che la Cavese è una squadra decisamente la meno forte anzi la più debole del campionato quindi hai perso il microfono sì dicevo poi ha fatto 4 punti col Teramo poi però il resto del campionato ha detto che questa squadra è la più è la più debole del torneo però torniamo insomma al discorso fatto in precedenza c'è quasi la sensazione che io vado oltre la provocazione che ho fatto in precedenza non vorrei che anche i calciatori desiderassero che questa stagione finisse al più presto prima ci hanno scritto Andrea proprio in risposta a quello che avevi detto te ai calciatori non interessa niente di fare i playoff ovviamente giudizio da casa eccolo qua non gliene frega nulla ai giocatori a chiacchiere siamo imbattibili poi il campo per fortuna non mente ma poi chi segna i playoff se manco arrivi a tirare è meglio non farli sì ma ripeto c'è modo e modo di fare i playoff il terreno non ci sta arrivando bene poi dopo i playoff soprattutto nei primi turni sono partite secche dove c'è anche un po' l'imponderabile si può cavalcare tutto certamente ripeto questa squadra non dà l'impressione di arrivare a questi playoff nella maniera migliore ci arriva in maniera stanca ci arriva d'inerzia ci arriva vivacchiando quindi nel peggior modo possibile giocatori che non sembrano affatto motivati la maggior parte di loro sono a scadenza pochissimi hanno il contratto per il prossimo anno forse a nessuno di loro è stato fatto un discorso serio sul futuro qualcuno potrebbe dire però dovrebbero meritarsi anche la conferma dimostrando sul campo di valere di meritare una conferma e però poi se ognuno resta dalla sua parte il risultato è che non si gioca più per un obiettivo comune non si ha più lo spirito che si aveva all'inizio del campionato e quindi poi le prestazioni sono quelle scadenti che abbiamo visto oggi abbiamo visto a Vibo e in tante altre circostanze negli ultimi 3-4 mesi oh ragazzi visto che siamo in chiusura di questa prima parte poi apriamo la pagina di Serie D vi giro una considerazione proprio della conferenza stampa di Paci che ha detto oggi è troppo facile sparare sulla crociera o se io ringrazio chi sceglierà di starci vicino come la vedete questa Ania e poi Andrea come la vedete questa questa dire non ridere no perché quando mi ricordo questo passaggio che tu dici te lo ricordo e quando l'ha detto mi sono ricordata dei Vibo Valencia della conferenza adesso dobbiamo stare tutti uniti e poi sono arrivate le parole del presidente Iachini quindi mi è sentato una sorta di ah tu dici già pensava a quello che verrà esatto esatto come una sorta di mettere un po' le mani avanti tra virgolette però mi ricordo mi ricordo questo passaggio che ho pensato siamo un po' come un paio di settimane fa una sorta di chiamata alle armi ma per quanto riguarda la compattezza di squadra dello Stare Uniti del cercato di fare scudo e di proteggere la squadra in queste ultime gare dopo questa innesima sconfitta quindi ho pensato questa cosa qui però se è vero che insomma mi ricordo la vigilia anche Paci che ha detto che comunque il Teramo è una squadra è una società unita un gruppo unito il presidente è stato sempre vicino c'è compattezza c'è unione di intenti tra le varie componenti quindi credo che insomma non ci saranno grandi cose dopo questa sconfitta si andrà alla fine si andrà alla fine del campionato poi ognuno tirerà le somme di quello che sarà Andrea cosa allora io voglio chiarire la domanda altrimenti sembra solo una stupida considerazione quella mia la sensazione è che probabilmente Paci se dice una cosa del genere evidentemente cerca una sponda in qualche antro della città in un qualche aspetto della città perché continua a ripetere secondo me la situazione è molto semplice da inquadrare io penso che un tifoso del Teramo il tifoso medio sia molto arrabbiato per queste ultime prove e soprattutto per aver perso oggi sul campo di una squadra così debole che tu guardi la classifica poi succede può pure succedere oggi sentivo in conferenza stampa veniva citata la partita Juventus-Benevento può succedere peraltro il Benevento non ha la classifica in Serie A che ha la cavese in Serie C pure questo insomma voglio dire ma può anche può anche succedere il problema è che questa partita va a coronamento di un certo tipo di periodo molto lungo quindi il tifoso medio è arrabbiato qualcuno che potrebbe non criticare la prova di oggi penso sono pochissimi qualcuno può essere quello che dice ok noi più di questo non potevamo fare la squadra si è già ampiamente salvata da tempo i playoff chi se ne importa anche come ci arriviamo come non ci arriviamo guardiamo con serenità al fatto che ci siamo salvati in ampio anticipo e si fa scendere giù prove come quella di oggi come quella di Vibo Valencia ma se no il tifoso medio non può che essere arrabbiato Paci penso che questa cosa da uomo di calcio la sappia magari si aspetta che chi sta intorno a lui in società nella dirigenza non abbia delle uscite che chiaramente possono suscitare imbarazzo anche anche in lui e nel gruppo può essere però anche un incentivo a fare bene perché ad esempio dopo la sfuriata del presidente è arrivata la vittoria con la Turris ma io penso che si rivolga più a una questione interna perché il tifoso come fa a non essere arrabbiato dopo una prova come quella di oggi parliamoci chiaro certo assolutamente ragazzi io sto per salutare Andrea Turesti con noi però ripensavo settimana scorsa avevamo fatto quella cosa del Dante Di quel viaggio all'inferno e il Teramo non era ancora doveva giocare contro la Turris adesso siamo oltre la Giudecca cioè siamo arrivati proprio in fondo praticamente stavo ripensando a quella cosa là comunque poi vedremo che cosa ci inventeremo per martedì va ampliato io penso che sia invece ancora fermo la Giudecca eh sì grazie Aria ci vediamo martedì alle 21 per Proteramo grazie Andrea resta con noi noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco Serie D seconda parte dell'abruzzo del pallone apriamo l'ampia pagina dedicata alla Serie D buona serata a Roberta Di Sante ciao Roberta ciao Jacopo buonasera a tutti ben rivista e in piattaforma do il ben ritrovato a Fabio Montani ciao mister buonasera buonasera ecco ti qua e Stefano Recanati lo avete visto appena rientrato da Rieti d'altronde lui praticamente è un un apoli anzi è un cittadino della regione Lazio oramai però partiamo subito dalla vetta e non con il campo basso ovviamente la vetta che riguarda noi quindi la seconda posizione partiamo da Castelfidardo Castelfidardo Notaresco 1 a 2 il servizio di Paolo Renzetti seppur informazione rimaneggiata per le assenze degli infortunati Colombatti Marcelli e Bianciardi e degli squalificati Gallo e Banegas il Notaresco espugna con pieno merito il Mancini di Castelfidardo per 2-1 restando in scia della capolista Campobasso in attesa del derby di mercoledì con il Castelnuovo parte forte la squadra rosso-blu visto che al primo minuto c'è un salvataggio della difesa bianco-verde con Sant'Angelo su Marchionni piazzato quasi al vertice dell'area piccola al sesto ancora Notaresco con Marchionni che mira l'incrocio e con la palla che esce di un soffio al settimo però la squadra di casa sblocca il risultato con Perpe Pai che su cross dalla destra in area anticipa tutti e mette la palla alle spalle dell'incolpevole Sciba Abruzzesi subito sotto e costretti così a rincorrere in una gara complicata al diciassettesimo ci prova Palumbo che calcia di potenza mancando di pochissimo il bersaglio grosso al ventitresimo però il pareggio del Notaresco è cosa fatta con Marchionni che di testa su cross di Palumbo non sbaglia per l'1-1 della squadra di Massimo Epifani parità al Galileo Mancini con gli ospiti che ci credono e che al ventisettesimo mettono la freccia trovando il 2-1 con Dos Santos che nella più classica delle azioni di contropiede servito da Palumbo a porta vuota in sacca colpo sicuro la gara resta godibile con i padroni di casa che impiegano qualche minuto per reagire sfiorando il 2-2 al 34esimo con Puka che di testa fa terminare la palla di poco sopra la traversa e questa l'ultima emozione del primo tempo che si chiude sul 2-1 in favore della formazione abruzzese nella ripresa al quinto minuto punizione locale con Didio che calcia però centralmente fra le braccia di Sciba al decimo gridano al golli locali ma il tiro di Mataloni fa finire il pallone al lato di un nulla match combattuto ma con meno emozioni rispetto al primo tempo al 25esimo triplo cambio nel notaresco con l'esordio dell'ultima arrivata a quadro in campo anche Olcese e Bana e fuori Dos Santos Marchionni e Cancelli in campo si lotta senza esclusione di colpi con il match che resta in bilico al 91esimo sembra fatta per il 3-1 ospite con il nuovo entrato a quadro che trova una deviazione miracolosa di David negli ultimi sette minuti di recupero si soffre in casa rosso-blu con la formazione del presidente di Giovanni che però non rischia più nulla portando a casa tre punti d'oro per non perdere contatto dalla vetta Epifani è una vittoria importante meritata su un campo non facile come quello di Castelfidardo si è lottato fino al novantesimo però notaresco alla fine è riuscito a far valere la maggiore tecnica della sua squadra si ho fatto i complimenti all'allenatore ma non sono dei complimenti di facciata è una squadra che crea problemi a tutte le squadre in questo campionato e quindi vuol dire che c'è un lavoro dietro e quindi temevo molto questa partita dopo la sconfitta col campo basso la squadra ha reagito siamo andati sotto anche se siamo partiti molto molto bene abbiamo reagito abbiamo ribaltato il risultato poi abbiamo ci siamo difesi bene abbiamo concesso poco a loro e siamo contenti perché questa è una vittoria importante perché ha più valore dopo la sconfitta con il campo basso e dopo i 14 giorni prima di campo basso dove ci siamo allenati meno e questa settimana abbiamo lavorato bene e si è visto era fondamentale vincere per non perdere contatto dalla squadra molisana sì ma adesso è necessario vincere sempre cercando di stare lì dietro cercando di rimanere più a lungo possibile attaccato al treno nel campo basso anche se noi abbiamo una partita di meno il cambiato secondo me è ancora lunghissimo perché poi mancano a noi 11 partite e a loro 10 cercheremo di stare lì davanti fino alla fine cercando di vivere un sogno che stiamo vivendo adesso non abbiamo più niente da perdere ce la giocheremo sempre e cercheremo di vincere tutte le partite mercoledì altra tappa fondamentale di questo campionato il derby casalingo con il Castelnuovo ogni partita è difficile non c'è una partita facile dobbiamo affrontarla è un turno fra settimanale quindi bisogna recuperare bene le forze e cercare di fare un'altra grande partita per portare a casa tre punti siamo partiti bene sono passati in vantaggio dopo loro sono stati bravi a far gol su una giocata qua con Palumbo dove noi abbiamo fatto un pochino male e dopo abbiamo fatto il 2 a 1 su un errore nostro e dopo è complicata un po' la partita loro non hanno più giocato quindi calciavano molto lungo avevano molta fisicità davanti che abbiamo sofferto oggi noi dietro però poi abbiamo continuato a giocare abbiamo provato a pareggiare abbiamo avuto diverse situazioni abbiamo giocato anche bene dispiace che il secondo tempo si è giocato poco si è giocato poco per bravura loro diciamo così hanno sporcato molto la partita hanno spezzettato molto il gioco hanno fatto molti falli e noi a volte siamo andati anche dietro alle loro provocazioni abbiamo giocato un po' meno abbiamo fatto bene per un quarto d'ora 20 minuti poi dopo l'ultima mezz'ora si è giocato veramente poco vittoria importantissima per il notaresco vado subito da mister Montani a cui giro di fatto le parole di Massimo Epifani al termine della gara che dice adesso sappiamo di non aver più nulla da perdere anche se abbiamo una gara in meno sarebbero potenzialmente due punti meno del campo basso poi in realtà sono tre perché gli scontri retti insomma ne ha vinti tutti il campo basso ma questo può essere mister la chiave per provare a fare un finale di stagione con il turbo? ma guarda ci sono due situazioni dal mio punto di vista non condivido non condivido l'espressione non abbiamo nulla da perdere perché non so che messaggio mandi alla squadra da questo punto di vista non lo so cosa voleva dire Epifani mentre invece condivido l'osservazione che ha fatto lui a fine partita che secondo me rialzarsi dopo la sconfitta in uno sconto diretto importantissimo per entrambe le squadre era importante oggi e contro una squadra tosta un campo tosta una squadra che gioca anche molto bene quindi sotto questo punto di vista condivido le parole di Epifani era importante vincere e rialzarsi subito per continuare poi come dice lui un cammino personale di squadra partita dopo partita per vedere poi alla fine come andrà a finire però lanciare un messaggio di quel tipo non lo so sinceramente non mi è piaciuto senti ti chiedo da allenatore giochi lo scontro diretto lo perdi meritatamente perdi all'inizio della gara un uomo fondamentale come Bianciardi a cui rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione passano dieci giorni vai a Castelfidardo e vai subito sotto insomma qualcosa passa nella testa dell'allenatore dei giocatori che cosa passa? sicuramente come come ripeto lui ha subito espresso questo pensiero quindi immagina cosa in panchina sia passato da una sua testa quando è andato anche sotto se lui aveva aveva il sentore di che questa cosa potesse come giusto che può accadere che un perdi una partita importante ti lascia un po' dei traumi ti lascia un po' qualche strascico tu ce lo metti in conto ha detto che è riuscito a lavorare in maniera positiva e oggi la squadra gliel'ha dimostrato perché quando riesce a lavorare bene in settimana poi il campo ti rispetta e ti ridà quello che poi durante la settimana hai fatto quindi sicuramente andare sotto un pizzico di preoccupazione gliel'avrà messa però c'è stato assoluto della reazione e questa è una cosa molto positiva Andrea vengo da te perché ti chiedo è evidente che questa è una squadra e comunque sta facendo un grande campionato certo poi si rientra nel dispogliato e vedi il campo basso e vince 4 a 0 un po' dico un po' di sconforto ti viene o no? Guarda francamente io penso questo che virtualmente ci sono due punti di differenza tra le due squadre quindi il campionato è ancora lungo perché siamo alla venticinquesima giornata bisogna arrivare alla trentaquattresima ma il notalesco deve recuperare io se considero che una partita è vinta quella col Montegiorgio e ci sono due punti di distanza entrambe le squadre poi devono recuperare un'altra partita e poi ci sono tutte le altre per arrivare fino alla fine insomma ci sono tantissimi punti in disposizione se il notalesco batte il Montegiorgio nel recupero si mette a meno due quindi è un testa a testa certo non c'è non c'è modo di abbattersi intanto ogni volta che parlo segna il Venezia 2 a 0 rete di Cernigoi quindi non c'è non c'è verso di abbattersi purtroppo lo sconto diretto è stato perso anche quello di ritorno giocato in condizioni difficili perché purtroppo il notalesco ha accusato la pausa dovuta al covid purtroppo è così bisogna mettersi l'anima in pace ma è stato fatto un acquisto importante perché si è fatto male Bianciardi ma è arrivato a quadro che è quasi un lusso per la serie D anche se insomma lui ha fatto mezza stagione mi pare a Taranto poi è andato via però è un centrocampista molto forte quindi le armi le ha il notalesco per giocarsela bisogna stare sul pezzo perché i campionati di questo tipo non finiscono mai sono infiniti prendo in prestito le parole di Grassadonia quando è arrivato al Pescara abbiamo visto rimonte abbiamo visto campionati che si risolvono alla fine prima stavo facendo una riflessione sul girone B di serie C Perugia perdeva in casa con la Triestina 0 a 1 all'86 fa due gol e ripalte il risultato ed è ancora in corsa per vincere il campionato mette pressione a Suttirolle e alla capolista Padova che ha vinto solo 1 a 0 sul rigore col Gubbio poi subentrano delle componenti quando si va avanti nel campionato componenti psicologiche la paura di vincere anche da parte di chi è in testa per cui bisogna crederci Notaresco ha la ferita dello scorso anno e questa ferita deve essere una motivazione per stare sul pezzo fino alla fine Certo Mister c'è da dire che il segnale di andare a prendere al posto di Bianciardi un giocatore importante come a quadro significa che la società in primis la squadra ci crede altrimenti potevi anche dire vabbè facciamo con quelli che abbiamo No ma sarebbe follia pura perché che il Notaresco sia partito per poter vincere il campionato non credo che sia una bestemmia è la realtà sono davanti meritoriamente e aggiungo come ha detto anche Andrea prima proprio in virtù di quella di quella affermazione di Pifani è come voler togliere un po' di peso un po' di responsabilità ai suoi giocatori secondo me non va bene perché i giocatori che hanno il Notaresco sono giocatori di primissima scelta che possono lottare col campo basso per vincere il campionato quindi lanciare un messaggio del genere dicendo la frase che ha detto Massimo ricordami un attimino nell'intervista prima sua rilasciata non ci abbiamo nulla da perdere è come togliere un po' di peso questi giocatori si devono prendere responsabilità assolutamente la società di nuovo ci ha messo la faccia andando a prendere un giocatore importante quindi devono stare sul pezzo fino alla fine fino all'ultima domenica perché è vero che adesso c'è stato lo schiaffo del secondo sconto diretto perso ma non vuol dire nulla perché ci sono i recuperi ti puoi mettere a due punti e poi lì quando sei lì secondo me è più facile rincorrere che stare davanti poi bisogna capire chi ha più spessore chi ha più sangue freddo ed è un discorso generale che passa dalla società all'allenatore al gruppo squadra però intanto vinciamo i recuperi poi ci mettiamo lì e guardiamo e i giocatori devono assumersi tutte le responsabilità del mondo perché l'allenatore sta lì lavora non ci dorme la notte la società compra ancora altri giocatori e loro quindi assolutamente secondo me le responsabilità e non non ci abbiamo nulla da perdere no ci abbiamo da perdere come dobbiamo vincere ogni domenica e questa vittoria è stata importantissima oggi chiarissimo chiarissimo o a proposito di vetta della classifica visto che stiamo per vedere Campobasso Castelnuovo Stefano poi vengo da te perché voglio sapere da te che cosa sta accadendo al Castelnuovo che è vero che non poteva continuare quella strisce dei risultati fantastici che ha fatto all'inizio del campionato però se non vado errato le ultime quattro partite ha fatto un punto sì giusto un punto solo certo oggi era la partita più complicata assolutamente da sbrogliare facciamo così ci andiamo a vedere in servizio Campobasso Castelnuovo 4 a 0 e poi commentiamo al termine di una partita difficile il Campobasso serve un poker ad un Castelnuovo vomano che non riesce a contrastare al meglio il rosso-blu gara caratterizzata da un malore ad un assistente che comporta una pausa di quasi 10 minuti ed il residuo partita giocato senza guardaline ha diretto il signor Gauzzolino di Torino del Campobasso a detenere un certo predominio che si traduce in due occasioni iniziali la prima al quinto ma la punizione di Ladu batte fuori non più di due metri mentre all'ottavo il cross dipinto da Esposito è praticamente perfetto ma nessuno ne sa approfittare compreso Menna ad altezza secondo palo il Castelnuovo prova ad opporsi all'undicesimo quando Fagioli è in posizione regolare a destra e può andare verso la porta al momento della sterzata c'è un presunto tocco di sbardella ai suoi danni qualche protesta ma nessuna irregolarità ancora ospiti propositivi al quattordicesimo con un destro alto sopra la traversa da parte di Emili i rosso-blu passano al ventiduesimo quando Vitali inizia una progressione che sfocia nel passaggio ad Esposito in piena area effetto a un diagonale parato da Natale con il pallone che a seguire carambola sui piedi di Foglia e finisce in rete 1-0 per il rosso-blu ed è un autogol ma il gioco non riprende subito anzi il direttore di gara si intrattiene a telefono a causa di un malore occorso al signor Bertozzi di Cesena questi è impossibilitato a proseguire la gara così l'arbitro si ingegna per reperire un tesserato aia in grado di coadiuvarlo dopo minuti di ricerche si decide di proseguire con due assistenti prestati dalle rispettive società a causa dell'inconveniente si perdono circa 10 minuti alla ripresa delle ostilità intorno al 32esimo la fase sorride molto al campo basso che tuttavia si mostra ancora abbastanza sprecone il tiro di Esposito termina di pochissimo al lato dopo una deviazione siamo intorno al 32esimo e 30 secondi dall'angolo che ne nasce il colpo di testa di Menna finisce davvero di un soffio fuori al 33esimo e lo stesso Cogliati ad approfittare di un buco di Terrenzio ma a trovare una parata anche fortunosa di Natale con Foglia che spazza via la sfera mentre al 37esimo il gran lavoro di Esposito è vanificato da Candellori che è calciallato in un'area da posizione davvero ottimale calcio di rigore in movimento nel frattempo il tecnico ospite Di Fabio aveva dovuto rinunciare per infortunio a Fagioli rilevato da Fidanza al 44esimo sempre Sposito in area fa quello che vuole fino al tiro conclusivo un po' troppo telefonato e parato così da Natale ex di turno nel giro di qualche minuto intorno al 53esimo due offside abbastanza dubbi segnalati alle due squadre prima al campo basso dopo il lancio di Ladu per Vanzani laterale scatta ma viene fermato la posizione appare però regolare altrettanto rivedibile quanto accade poco dopo corridoio di Degidio nel Castelnuovo per Fidanza che batte Raccichini il gol viene annullato per fuorigioco direttamente dal direttore di gara mentre un minuto più tardi grossa occasione ospite sui piedi di Emili che calcia a lato da posizione molto invitante è l'ultima possibilità di un primo tempo che il campo basso avrebbe potuto condurre in maniera molto più consistente nella ripresa con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo al quattordicesimo quando la punizione di Loviso è troppo distante per poter impensierire Raccichini ancora il rosso-blu un minuto dopo con il cross di Vanzani deviato a lato da Vitali senza altri tocchi avversari mentre al quarto d'ora esatto palla gol sul destro di Fabriani su cui è buona l'opposizione di Natale al diciassettesimo ospiti insidiosi con Degidio che apparecchia il tiro lo effettua ma è la schiena di Bontà salvare la porta di casa il bis dei locali al ventesimo quando in area abruzzese Cogliati trova ancora una parata da parte di Natale l'azione prosegue con l'appoggio di Cogliati ad Esposito che è bravo a proteggersi dagli attacchi di Loviso e a battere Natale con un pallonetto imprendibile rosso-blu sul doppio vantaggio anzi sul triplo dal venticinquesimo quando Esposito apre il compasso per Bontà che dal fondo chiama Natale alla parata ma non alla trattenuta Cogliati è lì e deposita in rete il pallone del Tris la partita è praticamente finita qui Cudini qualche minuto dopo a vicenda lo stesso Esposito per far entrare Di Domenico Antonio e al trentunesimo Slalom in piena area di rigore da parte di Vitali fermato al momento del tiro da Foglia per l'arbitro è calcio di rigore dal dischetto tiro di Di Domenico Antonio intuito da Natale ma che vale il 4-0 per il rosso-blu Cudini fa entrare Martino al posto di Fabriani al trentaseiesimo da Di Domenico Antonio a Cogliati che viene chiuso in calcio d'angolo nei locali triplo cambio dal trentasettesimo dentro Capuozzo Mancini e Zammarchi al posto di Van Zan Vitali e Candellori esauriti i cinque campi da parte di Cudini finisce con la festa dei ragazzi di Cudini proiettati già a domenica contro la Vastese visto il rinvio del derby di mercoledì contro il Vasto Girardi era una partita in equilibrio avevamo preso un gol su un autorete però in campo tutti e due cercavamo di fare la partita abbiamo provato anche noi di ribaltarla è capitato che il primo tempo abbastanza equilibrante il secondo tempo siamo rientrati e stiamo facendo delle buone cose abbiamo perso una palla a centrocampo è venuto il 2-0 e dopo il 2-0 è stata più difficile però fino a quel momento la partita era in equilibrio avevamo anche pareggiato adesso non so se il gol era in fuorigioco o meno comunque è stata una partita anomala senza guardaline era cioè se il gol non era valido sicuramente la partita avrebbe preso un'altra piega poi è normale se regali qualcosa a questi signori qua la paghi perché il suo filo ha dei giocatori molto forti gara assolutamente particolare e non per il per il punteggio ma per quanto è successo mi sento era mai capitato una situazione del genere dover cercare con l'arbitro che deve cercare i due assistenti un assistente poi in fondo non trova praticamente nessuno due inservienti che fanno da guardaline si mi è capitato a Vasco l'assistente ha avuto un problema mi sembra muscolare c'era se non so ricordo male già in tribuna uno dell'AIA guarda mi hai aperto un ricordo perché c'ero io a fare quella partita è capitato è vero hai ragione ma in quel caso poi un allenatore visto che abbiamo sentito Guido Di Fabio dire insomma è stata certamente una partita anomala un allenatore poi immagino che si fidi fino a un certo punto abbiamo visto due chiamate un po' particolari dai un po' non puoi farti nulla quindi è inutile sprecare energie a pensare che potresti avere dei dei danni o meno quindi lasci stare purtroppo non puoi fare differentemente cerchi di guardare di curare le cose che devi fare senza spendere energie e restare a pensare cosa può combinare o meno e se non ricordo male in quella partita quell'assistente di vasto ci diede delle belle legnate probabilmente per mettersi l'anima in pace certo Andrea hai visto una situazione un po' anomala vediamo un po' la moviola che hai preparato sì perché c'è questo gol penso che si capisca anche se non si vede esattamente al momento del passaggio filtrante se è al di qua o al di là ma si può secondo me lo tiene in gioco Fabriani con la maglia numero due si può facilmente dedurre perché qui riceve qui si vede chiaramente che insomma col tempo che ha per girarsi ecco qui la palla è già partita o meglio qui c'è il tocco poi qui si gira già fa un passo avanti e poi appare ecco qui appare appare il numero due Fabriani mi sembra un errore piuttosto evidente poi sicuramente qualcuno a casa sarà pronto a dire che all'andata ci fu quel rigore di bontà non dato eccetera eccetera se noi stiamo su questa partita ricordando quello che è successo all'andata precisando che il Campopasso ha creato tantissime palle gol e quindi ha nel complesso meritato la partita però chiaramente questo gol dell'1 a 1 si è convalidato come probabilmente sarebbe stato con l'assistente vero in campo magari iniziava un'altra partita non è dato saperlo con certezza ma poteva essere peraltro c'è un altro file che ho preparato dove si vede addirittura che Menna a difensore del Campopasso dice all'assistente ma alza la bandierina eh sì ma insomma io non so se l'assistente in questione fosse quello del Campopasso o quello del Castelnuovo però si deve chiedere all'assistente pretendere di alzare la bandierina in una situazione del genere tra l'altro gli è andata bene a Menna perché insomma era un errore difensivo che è stato condonato oh a letto di questo intanto passatemi un po' una specie di metafora per chi ha visto la settimana di Champions Stefano Esposito Esposito è il Sané del Campopasso cioè si piazza lui sul lato sinistro Sané giocava sul lato destro si mette in quella zona di campo ed è difficile da controllare non sai se tira non sai se passa non sai se crossa sì perché è bravo a fare tutto è bravo a fare qualsiasi tipo di giocata a rientrare ad uscire a passare la precisa per un compagno a trovarla in mezzo all'area il compagno a tirare il borsa quindi è imprevedibile come giocatore però proprio sulla partita volevo riallacciarmi alle parole di mister Montani che è vero che di Fabio adesso non deve trovare scuse per questa partita deve cercare di ricompattare un po' l'ambiente in una fase dell'intervista che qui non c'è ma che io ho sentito poco fa mister diceva forse una volta arrivati a questi 40 punti ci siamo montati la testa anche per colpa mia fatto anche mia colpa dicendo volevamo cercare di fare qualcosa di più di quello che abbiamo nelle nostre corde cioè stare vicino al campo basso e notaresco forse è il tempo di ridimensionarci un po' di fare il quadrato e lottare almeno per raggiungere questo terzo posto che alla luce della classifica è ancora tutto aperto e cercare anche perché la Cinzia Albalonga ha perso? sì oggi ha perso poi tra due domenica non questa ma la prossima perché c'è il turno infrasettimanale poi domenica ci sarà proprio lo sconto diretto a classe nuovo col Cinzia Albalonga e non farsi sfuggire quel terzo posto comunque quella griglia playoff che sarebbe una beffa l'abbiamo detto sempre per quello che ha fatto il Castelnuovo quest'anno da neopromossa eh sì assolutamente sì peraltro Stefano a metà settimana mercoledì nell'infrasettimanale che partita? perché ci sarà Castelnuovo eh sì sarà un'altra partita difficilissima perché il Castelnuovo arriva da da questo trend negativo e cerca di di rimettersi in corsa e il notaresco sarà lì per non perdere la scena del campo basso e sappiamo quanto è difficile giocare al Savini anche se non c'è il pubblico e sarà una partita veramente aperta a qualsiasi tipo di risultato Roberta che partita ti aspetti mercoledì? eh ma eh come dice come dice Stefano io penso che eh non sarà facilissima come partita perché il notaresco giustamente ha comunque la pressione eh di eh cercare di eh rimanere appunto incollata incollato al campo basso e quindi di tenere questo eh questo trend perché vuoi non vuoi anche se Epifani cerca di buttare acqua no? eh però eh vuoi non vuoi comunque eh l'obiettivo c'è ed è giusto per seguirlo tra l'altro la vittoria di oggi secondo me è una vittoria importantissima quella del del notaresco a Castelfidardo eh e dall'altra parte è scontata assolutamente ma non per la forza del notaresco che conosciamo benissimo perché abbiamo imparato a conoscere Castelfidardo quanto può fare male? Castelfidardo fece vedere i sorciverdi al Pineto io ci sono stata a Castelfidardo e fu tra l'altro la partita che fece traboccare la goccia che fece traboccare il vaso con le dimissioni che poi portò alle dimissioni di Amaolo detto questo per inciso dall'altra parte mi aspetto un Castelnuovo che ovviamente seppur viene da questo trend negativo io penso che come diceva Stefano debba un po' ricompattare mi aspetto un Castelnuovo che comunque è anche galvanizzato un po' da questo derby perché comunque si sente notaresco Castelnuovo siamo in linea d'aria proprio vicinissimi per cui si sente anche un po' questo campanilismo seppur non ci sarà il pubblico però io penso che il Castelnuovo voglia fare bella figura a notaresco e voglia anche scrollarsi un po' da questo trend negativo dal quale dal quale viene per cui mi aspetto una bella partita tra l'altro il Pineto potrebbe fare potrebbe dare una mano al Castelnuovo visto che deve giocare in terra laziale contro la Cinzia al Balonga intanto vediamo la classifica perché giustamente da casa ci dico potete indicare quante partite deve recuperare la Vastese che ha 20 partite quindi tecnicamente deve recuperare 5 però non escono gli asterischi perché perché vedete che c'è il meno 1 e purtroppo non siamo noi che mettiamo gli asterischi chiediamo Venia ma a chi progetta allora la progettazione di un software io immagino siccome non è un software progettato in era Covid non teneva conto il fatto che ci potessero essere 256 mila asterischi quindi ne deve recuperare 5 però noi ci fermiamo per la pubblicità a rientro parliamo di Pineto e Giuliano a tra poco di nuovo insieme con l'abruzzo del pallone come vedete dalle nostre luci parliamo di Giuliano ci spostiamo a Rieti fatemi vedere se è contento oggi di essere stato al Magno Scopinio invece che al Gudini dove hai preso secchiate d'acqua oggi eri bello coperto anche se non è andata bene il Rieti batte di misura 1 a 0 il Giuliano dopo 196 giorni Rieti torna a giocare al centro d'Italia a Magno Scopinio e lo fa battendo per 1 a 0 un Real Giulianova che non ha saputo sfruttare alcune occasioni importanti 3-5-2 a specchio per le due compagini Battisti allenatore della formazione Amaranto Celeste perde Giannetti così orchi e costretto ad arretrare nel pacchetto difensivo Tirelli è il vertice basso di centrocampo in attacco la coppia ad Alessandro e vari nel Giulianova Bitetto conferma la formazione che ha pareggiato contro il Pineto tocca ancora a Danna guidare la retroguardia giallorossa in avanti Paudice e Barlafante rientrano Demoleon e Cipriani che partono dalla panchina prima parte di gara di marca Reatina che al 19esimo minuto protesta per un presunto fallo di mano all'interno dell'area di rigore giuliese ma per Gasperotti di Rovereto si può proseguire tra le proteste molto accese di orchi ancora pericolosi padroni di casa questa volta da calcio piazzato sempre con orchi che con il destro a rientrare colpisce la parte alta della traversa il Giulianova vive un momento positivo intorno al trentesimo quando Massetti direttamente da calcio piazzato prova la conclusione in porta con il pallone deviato dalla barriera con la triettoria che per poco non beffa Salietti immobile tra i pali tre minuti più tardi ci prova anche Barlafante bravo a crearsi lo spiraglio per la conclusione mancina che però finisce sul fondo il Real concede poco o nulla alle Abruzzesi che però hanno sul finire di tempo le occasioni migliori per passare in vantaggio con Paudice il numero nove prima non riesce ad indirizzare di testa la sfera alle spalle di Salietti il suo assist al bacio di Barlafante un minuto più tardi invece l'attaccante Giuliese si mette in proprio ma il suo tiro potente non inquadra lo specchio della porta con gli stessi 22 in campo la ripresa vede come nella prima frazione Rieti in avanti che prova a scardinare la difesa ospite con un colpo di testa di D'Alessandris conclusione centrale e facile presa di Mora Barlafante in avanti prova per il Giulianova a creare pericola la retroguardia reatina che però ha una doppia occasione al diciassettesimo errore di Modici in uscita pallone che arriva a Vari il quale si fa ipnotizzare da Mora poi dalla distanza zona viene murato dalla difesa al ventiseiesimo esce dal terreno di gioco Barlafante al suo posto entra Cipriani e proprio sui piedi del classe 2001 potenziale occasione per passare in vantaggio ma da due passi il neo entrato spedisce incredibilmente fuori Battisti prova a vincere la partita esposta Orchi sulla linea di centrocampo mossa vincente perché dagli sviluppi di un corner conquistati dal 4 reatino la sfera finisce al limite dell'area di rigore dove zona prova il gran tiro deviato sottoporta da Galvagno che fa 1-0 da qui in poi il Giulianova non ha più le forze fisiche e mentali per provare a reagire così dopo sei minuti di recupero fa feste Rieti che si allontana dalla zona calda della classifica per il Giulianova si complica il cammino verso la salvezza anche se la squadra di Bitetto ha dimostrato di potersela giocare su ogni campo nel prossimo turno ancora uno stop per i giuliesi causa positività e il gruppo squadra dell'Agnonese abbiamo anche cercato di riprenderla ma mancava poco tempo è stata una partita come dire un po' equilibrata se vogliamo noi abbiamo avuto anche nel primo tempo delle buone opportunità per passare in vantaggio poi nel secondo ne abbiamo avute altre loro hanno espresso con molta sincerità un quarto d'ora del primo tempo dove noi non ci avevamo capito nulla perché loro hanno tenuto ci aggredivano non ci facevano giocare e poi cercavano anche di giocare loro e bene hanno tenuto più un predominio territoriale però per noi è un peccato perché era una partita che si poteva ecco dove magari l'episodio l'azione una rete poteva poteva capitare anche a noi invece è capitata a loro andiamo a casa sempre e comunque pieni di rabbia e con una sconfitta immeritata non c'è stato l'approccio sbagliato nella maniera più assoluta e anche il campo il campo è un ottimo campo erboso per carità è vero che noi stiamo sempre sul sintetico però sappiamo benissimo che poi quando si cambia superficie ti devi sapere adattare e credo che anche ci siamo ci siamo riusciti bene tranne qualche qualche passaggio semplice sbagliato un po' un po' troppe volte però ripeto è stata una partita dove le due squadre si sono espresse con la possibilità di poter superare l'una all'altra una vittoria importante per i ragazzi a livello anche di testa venivano da tanti risultati negativi quindi è una bella botta di fiducia dai per i ragazzi e sono contento perché hanno fatto comunque anche una buona prestazione avevate un po' di timore nel tornare a giocare qui dopo aver approntato la stagione direttamente lì al Gudini un campo diverso stretto insintetico però l'avete approcciata bene avete creato tante occasioni no ma timore no forse perché c'era un po' più di paura perché le distanze sono diverse questo è un campo regolare il Gudini è un po' stretto e quindi però ti porta anche dei vantaggi perché se sfrutti bene l'ampiezza del campo potresti poi creare delle difficoltà agli avversari sono stati bravi a essere pazienti avevo chiesto ai ragazzi di stare di avere quella pazienza che in questo momento magari viene meno perché hai fretta di andare in avanti a far gol e queste partite invece si affrontano secondo me con pazienza e cercando di fare quello che poi durante la settimana andiamo a provare e ai ragazzi vi devo fare i complimenti perché sono stati veramente bravi vado da mister Montani a cui chiedo insomma una sconfitta frutto sembra più dell'episodio perché il Giuliano l'aveva anche ben interpretata aveva avuto qualche chance per passare in vantaggio forse chance migliori rispetto a quelle del Rieti guarda Andrea prima fammi fare una piccola osservazione perché prima Stefano parlando dell'intervista di Fabio ha detto mi volevo rilasciare sulle parole di mister Montani probabilmente se è confuso io di mister Di Fabio prima del Castelluomo non ho parlato abbiamo parlato solo del notaresco del Castelfilarde quindi siccome stimo tantissimo Di Fabio non vorrei che magari uscisse magari sarà stato un refuso un lapsus esatto quindi assolutamente per quanto riguarda invece la partita dalle immagini che ho visto sembra proprio così nel senso che la partita equilibrata e lì poi i famosi episodi che nel calcio fanno la differenza questa volta sono andati a favore loro perché è sembrata una partita equilibrata e sullo 0-0 c'è stata quella palla goal sul giocatore che la manda da Ford Giulianova magari lì fa i gol in questo momento sarebbe tutto ossigeno per Giulianova ma l'ha sbagliata invece le bisogna dare a favore sembra dalle immagini così Certo Stefano partita equilibrata che ad un certo punto abbiamo hai pensato che potesse girare dalla parte dell'11 di Bitetto Sì soprattutto quando Cipriani si è divorato letteralmente il gol che poteva mettere in discesa comunque la partita per Giulianova il giocatore appena entrato forse non si aspettava nemmeno Cesario scusate Cesario non si aspettava nemmeno di trovarsi la palla in quella posizione lui ci è andato anche col piede sbagliato credo se vogliamo ma Giulianova ha avuto le occasioni per vincere la partita se vogliamo però purtroppo poi un tiro dalla distanza una deviazione sotto misura ha premiato il Rieti però il Giulianova come abbiamo detto e come ha detto anche il mister è una squadra viva purtroppo adesso se non si fanno risultati le altre lì davanti si allontanano e i punti dalla prima squadra che è nella griglia play out l'Aprilia che deve recuperare due partite si fanno distanti Stefano ma è vero questo messaggio è l'ennesima prestazione negativa di Massetti poi togliamo la parte finale però insomma tu come lo hai visto Massetti ma non mi è sembrato che ha fatto questa prestazione da giudicare negativa è stato in linea con la prestazione del Giulianova di oggi perché comunque ci ha provato sì ci si aspetta sempre qualcosa di più da un giocatore come Massetti però purtroppo devi essere anche seguito da tutti gli altri giocatori non puoi essere sempre da solo a poter fare la partita ci sono state delle azioni create proprio da lui o comunque da Giulianova in generale ma a volte questo è anche lo specchio della stagione quando le cose non vanno poi sempre bene è certo intanto prima ci dicevamo la classifica finale può essere impugnata da qualche società per questioni Covid ma io penso assolutamente no le squadre hanno sottoscritto un protocollo e la situazione vale per tutti no Andrea nel momento in cui tu accetti sì nel momento in cui tu accetti regole sono regole per tutti ci mancherebbe Andrea su Giulianova abbiamo visto che nelle settimane scorse la coppia Barlafante Paudice aveva fatto male in più di una circostanza vai a vedere che nel giorno in cui non segna questa coppia Giulianova si ferma se non trovi la via della rete è chiaro che diventa tutto più difficile però Giulianova aveva avuto delle trasferte nel Lazio piuttosto complesse quella con la Cinzia al Balongo dove addirittura aveva sfiorato la vittoria su un campo molto difficile oggi Rieti aveva la motivazione di ritrovare il suo campo e dopo il cambio d'allenatore quasi di inerzia ha vinto questa partita con quel guizzo alla fine diciamo che a livello di classifica oggi non è stata una gran giornata per il Giulianova ma la salvezza è ancora giocabile tenuto conto che giovedì non giocherà o meglio mercoledì non giocherà con l'Agnonese vediamolo il prossimo turno intanto ma quella è una partita che poi quando sarà giocata va vinta il Giulianova deve anche recuperare la partita col Porto Sant'Erpidio e anche quella è una partita che va vinta e sottolineo non sono partite vinte sono da vincere perché sono le ultime due e Giulianova ha bisogno di punti per rendere più pingue la sua classifica che insomma è abbastanza anemica quando poi queste partite saranno recuperate e si spera anche vinte si potrà tracciare un ulteriore bilancio su quello che servirà a Giulianova per giocare il play out perché io penso che molto difficilmente Giulianova riuscirà a salvarsi direttamente quasi quasi certamente la strada da perseguire è quella del play out e da questo punto di vista lo spauracchio è il mantenimento del distacco rispetto alla squadra contro cui dovrà fare l'eventuale spareggio ora il Giulianova è terzo ultimo quindi bisogna mantenere il distacco di otto punti o meglio inferiore agli otto punti per poter fare il play out quindi Giulianova ha bisogno di vincere delle partite intanto per questo obiettivo poi tanto meglio se dovesse guadagnare punti in classifica tuttavia le squadre più vicine sono squadre che devono recuperare diverse partite ben più del Giulianova mi riferisco a Pineto e Fiuggi dunque la strada è abbastanza complessa ma ancora fattibile Stefano prima di salutarti ci chiedo vogliamo parlare di Modic ci dai un giudizio rapido sulla partita di Modic che ha rischiato con un errore di dare il là ad un 1-0 che poteva arrivare prima sì ma lì non c'è nel servizio ma ha rischiato anche di lasciare la squadra in 10 perché il direttore di gara lo ha graziato su un fallo e quindi un secondo giallo a centrocampo un fallo stupido una prestazione forse al di sotto di quella che è stata la prestazione complessiva della squadra da un giocatore da cui ci si attende qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza invece un plauso lo faccio io a Danna perché anche oggi si è messo a giocare dietro e ha fatto una signora partita assolutamente sì Andrea allora il problema di Giulianova è recuperare i difensori over che sono che intanto è Demoleon e l'altro è caso li deve recuperare se li recupera Danna torna a fare il centrocampista Modic si accomoda in panchina il resto della squadra è fatta c'è Massetti c'è De Cerchio i due quinti Tipaldi e Tedone e poi gli attaccanti due tra i tre che conosciamo quindi Barlafante Paudice e Cesario se il Giulianova recupera Demoleon e caso e schiera la difesa titolare portando Danna al centrocampo risolvendo anche il rebus degli under proprio schierando Barlafante e Paudice in attacco il Giulianova se la gioca con tutti perché questo è l'assetto più stabile se gli over dietro non ci sono i difensori devi portare Danna dietro e gioca Modic e Giulianova perde tanto perché Modic purtroppo Modic io lo ricordo in un Vicenza Pescara in serie B nel 2015 quella del famoso 2 a 2 sul calcio di rigore con Pezzuto di Lecce cioè Modic era destinato a un certo tipo di carriera e invece poi la carriera è andata a picco e ora si trova a Giulianova ma purtroppo è un calciatore che non ha fatto la carriera che avrebbe dovuto e purtroppo non è un punto di forza di questo Giulianova assolutamente perché Danna sono diverse partite che viene sacrificato dietro quindi anche se c'erano stati dei miglioramenti negli ultimi nelle ultime settimane però poi ecco questa situazione ha portato a una involuzione quella di oggi è una cosa proprio un'occasione persa assolutamente fammi salutare Stefano ciao Stefano grazie per essere stato con noi ciao a tutti un saluto al mister noi chiudiamo il giro Roberta con il tuo di servizio il Pineto che batte l'atletico Porto Sant'Elpidio 2 a 1 vediamo il Pineto supera di misura 2 a 1 il Porto Sant'Elpidio con una doppietta di Minnozzi vista i tre punti di Monte Giorgio e conquista la prima vittoria a Casalinga con Pomante in panchina il tecnico Biancazzurro rivoluziona gli interpreti per via degli impegni ravvicinati nel 3-5-2 torna Salvatore in difesa a centrocampo spazio a Minincleri e Galeano esordio dal primo minuto per Restaneo e Mbuba Palladini che eredita da 13 la panchina del Porto Sant'Elpidio si schiera a specchio con Aliffi centrale difensivo Alessio Palladini e Gelsi a dirigere il centrocampo in avanti la coppia d'attacco e Spagna carissimi i Biancazzurri di casa approcciano bene la contesa e al settimo Minincleri rischia di sorprendere il giovane Cavalieri con un tiro cross insidioso ma l'estremo di casa si allunga e si salva in corner i locali fanno la partita e nel giro di due minuti la portano dalla parte dei Biancazzurri grazie ad un Minnozzi in palla al diciassettesimo si chiude il triangolo Minincleri della Quercia oggi capitano che mette in mezzo per Minnozzi la carambola inganna Cavalieri ed è 1-0 per i Biancazzurri nemmeno un giro di lancette ed ecco che l'ex Tolentino confeziona anche il raddoppio raccogliendo il filtrante di Bertolo e infilando di prima Cavalieri per la seconda volta firmando così la personale doppietta il Porto Sant'Elpidio accusa il colpo e inizialmente fatica a reagire con Mercorelli di fatto inoperoso per la prima mezz'ora di gara al 32esimo e ancora il Pineto ad andare vicino alla rete del KO ma è provvidenziale l'anticipo di Alessio Palladini su Minnozzi ben appostato col passare dei minuti il Pineto arretra però il baricentro e cerca di addormentare la partita evitando di forzare i ritmi al 43esimo Spagna riceve palla in area prova a girarsi ma la conclusione viene deviata in corner si va così al riposo sul parziale di 2 a 0 ad inizio ripresa gli ospiti tornano in campo determinati a riaprire la contesa e riescono ad accorciare le distanze dopo 10 minuti proprio con Spagna il migliore dei suoi che è lasciato libero di impattare di testa incrocia insaccando all'angolino dove Mercorelli non può arrivare per il 2 a 1 la risposta del Pineto al sedicesimo sempre con un Minnozzi in gran giornata che in diagonale impegna Cavalieri prima di uscire tra gli applausi per far posto a Romano cambia anche per Palladini che richiama Carissimi e Pierdomenico per far posto a Zira e Marcattili col passare dei minuti la pressione dei marchigiani cresce di intensità nel tentativo di riequilibrare le sorti del match ma non riesce a produrre occasioni in grado di mettere in difficoltà i Biancazzurri che pur soffrendo sembrano poter controllare la contesa fino al triplice fischio finale l'ultima occasione in pieno recupero e per Romano che servito da Cernaz viene però anticipato da Cavalieri proprio al momento del tiro il Pineto porta così meritatamente a casa tre punti preziosi nonostante avrebbe potuto mettere in ghiaccio prima la contesa in attesa della trasferta di mercoledì in terra laziale contro la Cinzia al Balonga cammino in salita invece per il porto Sant'Elpidio che comunque dimostra anche oggi di avere le carte in regola per poter mettere in difficoltà gli avversari avevo paura di questa partita perché non è facile affrontare una squadra che ne ha nulla da perdere noi siamo stati bravi a impattarle subito la gara perché siamo andati subito con due gol di scarto è normale sono un po' tra virgolette parlo tra virgolette dispiaciuto per il secondo tempo perché ci siamo un po' accontentati e abbiamo rischiato di fare tra virgolette il danno perché quando prendi il 2-1 poi va a rischiare di pareggiare la partita che sinceramente non lo meritavi dobbiamo essere più brevi a non accontentarci una volta raggiunto il 2-0 dobbiamo chiudere subito la partita perché queste sono partite strane vorrei ricordare anche perché il Porto Sant'Elpidio è una squadra che nelle ultime partite le partite le ha sempre giocate e ha pareggiato 0-0 a Castelnuovo e ha perso 2-1 col Matese e ha perso 2-1 con l'Alba Longa quindi è una squadra che le partite non regala nulla è una squadra che come ho detto prima le partite se le gioca fino alla fine e noi siamo stati bravi subito a portare la partita da parte nostra però c'è il rammarico che la partita la devi chiudere non dovevamo soffrire così tanto nel secondo tempo ma questa sarà per me da qua fino alla fine almeno fin quando ci saranno tutte partite ravvicinate sarà una routine perché è obbligatorio far riposare un po' di giocatori perché da qui fino a metà maggio troveremo tante partite ravvicinate e sono obbligato a far riposare ogni partita qualcuno nel primo tempo un po' troppo timorosi li abbiamo fatto giocare un po' troppo e abbiamo sbagliato tantissimo ripeto noi tanti in questo momento dobbiamo essere sereni e provare a giocare a calcio abbiamo incontrato una signora squadra nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà negli ultimi minuti quando abbiamo cambiato un pochettino modo di giocare perché ci siamo messi con i tre davanti avevamo i punti di riferimento e loro giocavano meno e quindi riuscivamo a prenderli di più e buttavano questa palla in avanti avendo questi giocatori rapidi e soprattutto con Minnozzi poi nella ripresa abbiamo riaperto la partita ci abbiamo provato fino alla fine i ragazzi ci hanno provato però io voglio vedere uno spirito diverso nel senso che in questo momento non abbiamo nulla da perdere quindi bisogna avere più coraggio cercare di avere più personalità capisco che sono tutti i ragazzi però lo spirito deve essere quello del secondo tempo provare e poi si sbaglia però è interessante che ci si prova a fare qualcosa oh Roberta in pochi giorni sei punti Minnozzi è diventato l'uomo a cui si aggrappa il Pineto per uscire da una situazione che non è che era complicata era complicata perché sostanzialmente queste squadre le partite non le ha giocate ti dico la verità rispetto a domenica scorsa in cui non partite in cui non mi era piaciuto moltissimo invece poi mercoledì e oggi è stato veramente l'uomo l'uomo in più oggi si è fatto trovare sempre al posto giusto nel momento giusto hanno fatto una buona prova anche della Quercia che oggi ha indossato la fascia di Capitano e anche Minincleri hanno giocato insomma il Pineto ha giocato un buonissimo primo tempo anche se la squadra insomma di fronte era ultima in classifica però nel secondo tempo ha sofferto invece il ritorno certo ci arriva sempre un buonico il fiatone sì ci arriva sempre un po' col fiatone esatto 1-0 Montegior 2-1 oggi però insomma l'importante è che siano arrivati questi sei punti i punti sono assolutamente vitali per il cammino del Pineto in questo momento ho tre punti quelli di oggi secondo me importantissimi anche perché mercoledì vai ad affrontare una partita secondo me difficilissima in terra laziale contro la Cinzia al Balonga per cui quelli di oggi erano tre punti assolutamente fondamentali per il cammino bene così anche se come diceva anche Pomante nell'intervista forse la partita bisognava chiuderla prima e il Pineto come al solito il solito Pineto nel secondo tempo ci ha fatto soffrire un po' mister io volevo chiederti questa è una squadra che abbiamo detto prima del recupero delle tante partite che dovrà fare insomma la Re Canatesi ci aveva insegnato che poi riprendere non è così semplice invece e ne siamo particolarmente contenti per il momento il Pineto sta facendo quello che deve fare cioè vincere quante più partite possibili e non era così scontato assolutamente sono d'accordo con te infatti ho ascoltato attentamente le parole di Pomante e condivido con lui il fatto che in questo momento ogni partita adesso lui dovrà dovrà cercare di far ruotare qualcuno e credo che sotto sto punto di vista non avrà nessun problema perché la Rosa del Pineto è talmente importante e ampia che può attingere come vuole invece sarei più diciamo un filino più preoccupato mettendo un attimino nei suoi panni nella gestione adesso della squadra a livello di allenamenti perché giocando sempre praticamente tu non avrai mai una settimana tipo e questo non è una cosa molto positiva specialmente per un subentrante come lui la squadra è stata anche rinnovata in maniera importante nel mercato quindi hai bisogno di lavorare quotidianamente di poter fare una doppia durante la settimana e questo lui non lo potrà fare quasi mai perché mi sembra che abbia tipo sette partite da recuperare e quindi questo sarà secondo me l'aspetto molto importante dove lui con il suo staff dovrà essere bravo a cercare di di estrapolare il meglio e di lavorare il più possibile perché adesso per esempio anche in riferimento a Giulianova prima quando parlavamo Giulianova sotto sto punto di vista mi sembra che deve recuperare una sola avrà la possibilità di lavorare tutta la settimana di poter recuperare i giocatori e quindi cercare di arrivare all'obiettivo di centrare i play out sotto sto punto di vista avrà un piccolo vantaggio mentre invece chi dovrà giocare sempre domenica e mercoledì domenica e mercoledì non sarà una cosa facile sicuramente è una rosa ampia e potrà ruotare e attingere come vuole però sotto il profilo del lavoro secondo me l'allenatore credo sia complicato quello che gli va riconosciuto sicuramente perlomeno in queste prime partite a Marco Pomante è sicuramente il coraggio di osare perché comunque ha cambiato nel suo 3-5-2 diversi diversi giocatori e ha fatto anche esordire nel corso di queste tre partite praticamente tre ragazzi giovani che non avevano mai giocato dal primo minuto quindi questo comunque è per ampliare quelle rotazioni sostanzialmente che poi ti serviranno esatto lui ha detto che questa sarà una costante nell'intervista che ogni volta cercherà comunque di cambiare perché necessariamente deve tenere al riposo dei giocatori perché come diceva il mister giocheranno praticamente ogni tre giorni però quello che mi sento insomma di dire a suo diciamo favore è che comunque gli va riconosciuta questa capacità di osare e di inserire giocatori che comunque lui aveva conosciuto già nel settore giovanile e che finora devo dire hanno dato il loro contributo assolutamente infatti volevo dire proprio sotto sto punto di vista avere una rosa ampia ti permette al di là di avere il coraggio di fare alcune scelte e gli va riconosciuto ma di poterle fare perché ci sono squadre che magari non hanno la rosa del pineto indubbiamente questo è l'incipit secondo me il discorso di non poter mai lavorare durante la settimana in maniera certosina in maniera chirurgica in maniera importante questa non è una cosa molto positiva assolutamente certo Andrea visto che siamo in chiusura innanzitutto diamo l'appuntamento a mercoledì noi saremo con la Bruzzo del Pallone edizione di un'ora dalle 19.30 alle 20.30 per le partite assolutamente da non perdere in chiusura ti ricordi quando Marco Pomante qualche settimana fa disse se qui qualcuno pensa che si giochi con il tiki-taka se lo tolga dalla testa perché noi dobbiamo salvarci e pensi che insomma sia arrivato forte e chiaro questo concetto io credo beh a giudicare anche della partita di Montegiorgio che è stata la partita più importante perché era uno scontro diretto perché il Pineto l'ha interpretata bene all'inizio poi è un po' sofferto ha avuto un pizzico di fortuna alla fine ma quella gara fa la differenza in questo periodo di ripartenza del Pineto perché ha dato un po' più di tranquillità poi doppiata anche dalla gara di oggi che insomma era un po' da tre punti al di là del fatto di rispettare l'avversario la partita va giocata tutto giusto però Porto Sant'Epio a tre punti e il Pineto li doveva fare assolutamente quindi la gara di Montegiorgio è stata fondamentale da questo punto di vista va gestito l'intero periodo oggi ho visto che ha fatto un discreto turnover è una cosa che può funzionare ma secondo me funziona soprattutto quando la squadra è diventata squadra quindi è una cosa che contro il Porto Sant'Epio può andare bene non so se sarà possibile fare questo corposo turnover da un mercoledì a una domenica quando l'avversario sarà di tenore superiore però benvengano queste due vittorie consecutive che fanno molto bene alla classifica aiuteranno a lavorare con maggiore tranquillità anche se il campionato del Pineto è condizionato da pochi allenamenti e tante partite bisogna avere pazienza e soprattutto bisogna avere la mentalità di chi si deve salvare quello è il senso del messaggio di Marco Pomante e va assolutamente sottoscritto vediamo il prossimo turno rapidissimamente mercoledì vi ricordo l'appuntamento con Diretta Stati con la produzione del pallone classico rinviata Giulianovo Limpiagnonese per casi nell'Agnonese così come avete sentito nel servizio del collega Gianni Bruno di Telemolise si va verso il rinvio anche di Vasto Girardi Campobasso mercoledì e poi le altre partite Tatico Porto Sant'Elpidio Aprilia Cinzia Albalonga Pineto partita molto importante Notaresco Castelnuovo sfida tutta abruzzese Reganatese Montegiorgio Rieti Fiugi Tolentino Castelfidardo e Lavastese che torna in campo contro il Matese è stata una giornata lunga bella io ringrazio Fabio Montani ciao mister intanto ti salutiamo con il 3 a 0 del Venezia visto che te ieri hai commentato anche Brescia Pescara era la degna conclusione del weekend grazie mille buona serata a tutti ciao Fabio ciao mister ciao Roberta grazie Roberta ci vediamo domenica prossima domenica prossima ciao a tutti ciao Roberta ciao Andrea ciao ciao buona serata a tutti ovviamente per tutte le news sullo Pescara io vi do appuntamento a domani sera con replay la trasmissione di Enrico Rocchi ci sarà anche Andrea i suoi ospiti per analizzare questa che è una volata salvezza che adesso per i biancazzurri passa dagli scontri diretti poi martedì avremo l'appuntamento con il Teramo e poi tutti gli altri appuntamenti mercoledì ovviamente ci sarà diretta stadio Abruzzo del Pallone e poi Palla Volevo una giornata tutta dedicata allo sport giovedì velozio ma fino alla prossima settimana l'Abruzzo del Pallone torna dunque non domenica ma mercoledì alle 19.30 su TV6 canale 14 e digitale terrestre buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti